In queste giornate è festeggiato l'Aleato Matteo Carreri e vediamo passare davanti a noi anche le rappresentanti di Mugnai e Fornai ed ecco che ha fatto ingresso nel cortile del castello preceduto dal stendardo ducale la famiglia ducale e così è partita la prima mancia di questa quarta giornata in seconda corsia è la contraria di Costa Valle! L'idea è la contraria di Valle che si aggiudica questo rettano sul paglio tutto sommato è un'edizione del paglio che è di l'attività molto bello tantissimo il pubblico che ringraziamo Grazie! 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 Grazie!